Ciao, sono Solpizzi di Francesco e benvenuto al mio corso sul tiro a lunga distanza, quindi a lunga range, primo livello. Questa è la lezione numero 1 dove vi parlerò dell'azzeramento dell'arma. Prima di passare all'azzeramento bisogna un attimino rivedere quelle che sono le regole di sicurezza sul maneggio e l'utilizzo dell'arma, quindi considera l'arma come se fosse sempre carica, a meno che tu stesso non hai verificato il contrario e hai fatto anche controllare al tuo coppio o comunque sia al tuo collega a fianco a te. Punta l'arma solo contro un bersaglio a cui vuoi sparare, tieni sempre il dito indice fuori dal ponticello e mettilo dentro solo quando vuoi sparare, tieni l'arma sempre in sicura e togli la sicura solo quando vuoi sparare, ma soprattutto ricordati, consapevolezza del vivo di volato, quindi il mio vivo di volato dove sta puntando, in una zona sicura o dove può far male a qualcuno o danno, quindi ricordati bene queste regole e la sicurezza del maneggio d'armi è importante. Ok, quindi taratura dell'arma, quindi noi abbiamo la nostra bell'arma nuova, dobbiamo andare a sparare, quindi facciamo la taratura, quella che si chiama ball sighting, cos'è serve? Per risparmiare colpi, che se la mia arma è starata, io sparo contro un bersaglio a 100 metri, bersaglio 60x60 cm, e non è detto che i miei colpi impatteranno nel bersaglio e non ho una parete di 100 metri quadrati dove vedere il punto di impatto, quindi cosa faccio? vado a tarare meccanicamente, quindi più o meno l'arma in maniera tale che i miei colpi impatteranno sul bersaglio, magari non al centro, però intorno all'area del bersaglio, in maniera tale che vedendo i buchi sulla carta, sul bersaglio, posso prendere la misura e trasformare quell'errore in click, quindi in correzione, e portare i punti di impatto al centro, ma vediamo come. Quindi la taratura può essere fatta con i sistemi laser, quindi la cartuccia laser viene messa nella camera di scoppio, quindi esce questo laser dalla canna, e noi cosa facciamo? Punteremo il laser su un bersaglio a 100 metri, o comunque nella distanza di zeramento, se voglio zerare a 50 il bersaglio lo metterò a 50 metri, e quindi vado a spostare i congegni di puntamento, quindi le mire metalliche, o il reticolo della mia ottica facendo coincidere il crocicchio con il punto rosso, o altrimenti la taratura meccanica qui a destra, cosa consiste? Smonto l'otturatore, bersaglio, allignerò la canna col bersaglio, fin quando non vedo il bersaglio perfettamente nella canna. Dopodiché vado a correggere il crocicchio muovendo le torrette e portando il crocicchio sul bersaglio, quindi quello che vedo nella canna lo vedo nel crocicchio, e qui ho azzerato, se fossero state mire metalliche uguale, avrei tenuto l'arma bloccata sul cavalletto, comunque bloccata, e poi dal mio collega al mio coppio avrei fatto muovere i congegni di puntamento o il reticolo in maniera tale che da portarlo sul bersaglio. Così abbiamo azzerato meccanicamente, abbiamo fatto il bersaglio. Ora, andiamo a sparare, quindi vediamo un pochettino. Tiro e posizione. Sparando, se la rosa li tiro in questa maniera, il tiro è giusto, quindi significa che i colpi vanno in sacco, però è molto aperta, quindi c'è un errore nostro, dobbiamo allenarci di più. Se il tiro, come vedete qui, la rosa è bella, omogenea, ma non è al centro, il tiro è preciso, quindi l'arma è precisa, è una bella rosa, bisogna soltanto portarla al centro, quindi bisogna un attimino regolare i congegni di puntamento o l'ottica. Quando la rosa è omogenea ed è al centro, si dice che il tiro è esatto, perfettamente al centro, rosa stretta. Invece il tiro è sbagliato quando i colpi se ne vanno a cacchi loro, quindi qui non si capisce se l'arma è starata oppure siamo noi che non siamo in grado di sparare. Un altro fenomeno è, se non tieni perfettamente l'arma in orizzontale, ma è leggermente inclinata, cosa succede? Che i colpi andranno dalla parte in cui inclini la camma. Questo perché? Perché, ti faccio un piccolo disegno, la linea di mira è sempre allineata occhio-versaglio. Disegniamo l'occhio. Questo è l'occhio e questo è il bersaglio. Quindi la linea di mira è allineata. La canna del fucile punterà sempre leggermente verso l'alto. Perché? Perché quando spariamo, disegniamo la canna del fucile, quando spariamo la nostra ogiva, la nostra proiettile, cosa farà? Arriverà al centro dove abbiamo mirato, dopodiché continuerà sulla traiettoria e cadrà. Quindi se io sposto qui, quindi ci sarà la nostra ottica con genio di puntamento, quindi se io ruoto leggermente a destra o leggermente a sinistra, questa è la vista frontale, se io ruoto leggermente a destra significa che la mia canna punterà verso destra. Se ruoto leggermente a sinistra, la mia canna punterà verso sinistra. E quindi questo è il risultato. Sparerò a destra o a sinistra. Poi ci sono gli errori dovuti allo scatto. Mi mando premio il grilletto. O errori dovuti all'impugnatura. Li vedremo più avanti, piano piano. Questo fenomeno di non tenere l'arma perfettamente orizzontale si chiama canting. E infatti esistono delle ottiche munite di bolla o internamente alla lente, oppure la puoi applicare tu. Quindi devi mettere in piano il fucile e in piano l'ottica. Per fare questo hai bisogno di un cavalletto per bloccare l'arma effettivamente in piano e delle bolle da applicare sopra l'arma e sopra l'ottica. Ecco, un sistema del genere ti può servire nelle lunghe distanze, perché a 100 metri un po' di canting dice poco, ma sulle lunghe distanze ti fa la differenza, soprattutto se vuoi fare una rosa molto ristretta. Ok. Andiamo avanti con la trattura dell'arma, quindi abbiamo trattato meccanicamente e spariamo in sagoma, i colpi vanno in sagoma, quindi miri al centro, ma i colpi vanno in basso a destra. Cosa facciamo? Andiamo in sagoma, misuriamo quanti centimetri di scosta dal centro, sia in ansito che alzo, in deriva che alzo. Trasformiamo questi centimetri in click. In base la nostra arma sia in click da un mils, da un ottavo di moa, da mezzo moa, quindi facciamo i nostri calcoli, quindi andiamo a muovere le nostre torrette, i nostri organi di puntamento meccanici e effettuiamo un altro tiro di prova che dovrebbe andare al centro. Se invece dobbiamo trattare l'ottica, un altro metodo, anziché prendere la misura, qual è? Abbiamo mirato al centro, ma i nostri colpi sono andati in basso a destra. Teniamo l'arma ferma, bloccata sul cavalletto, ferma, non si deve muovere, sempre mirando al centro, perché non stiamo mirando lì. Diciamo al nostro collega di muovere le torrette, o comunque gli organi di puntamento. Cosa succede? Che gli diremo vai giù, vai giù, vai giù, vai a destra, vai a destra, vai a destra, affinché non faremo collimare gli organi di puntamento, il crocicchio sulla rosa di tiro. Ecco, ora stiamo mirando dove impatteranno i colpi. Quindi adesso andiamo a mirare al centro, i colpi impatteranno al centro, quindi dove miriamo. Con questo azzeramento, tre colpi, hai azzerato l'arma, quindi non c'è bisogno di fare prove, calcoli, ma un clic in più, un clic in meno, questo è preciso. Se hai fatto una bella rosata, questo è il metodo migliore. Tieni l'arma ferma e muovi il reticolo sul punto di impatto. Ok, questa è l'anteprima della seconda lezione, che vedremo nel prossimo video tutorial o video corso, chiamolo come vuoi. Grazie per avermi seguito, se ti è piaciuto lascia un like, lascia dei commenti, farmi delle domande, ti risponderò quanto prima. Se hai dei dubbi o comunque sia delle curiosità, non esitare a contattarmi. Trovi tutto in descrizione e ti dono arrivederci al prossimo video tutorial.